Ammonta ad oltre 275 milioni il costo sociale per gli incidenti stradali che si verificano in provincia di Salerno. È uno dei dati diffusi questa mattina dall'Automobile Club nell'ambito della iniziativa utile a presentare tre giorni di guida in sicurezza, organizzati con il Regimento Logistico Garibaldi e la struttura specializzata Ready to Go. Coinvolti oltre 240 militari del Regimento Logistico Garibaldi che hanno seguito dei cicli di formazione, una parte teorica nella quale sono stati affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza, utili a prevenire un incidente stradale, ed una parte pratica per comprendere le cause che sottostanno alla maggior parte dei sinistri. L'appuntamento di Salerno rappresenta il sesto progetto per le forze armate che vogliono fornire al personale dell'esercito una specifica preparazione che possa essere d'aiuto nel lavoro di protezione del territorio a salvaguardia della propria incolumità. Il corso di formazione arriva in un contesto particolare che vede proprio in provincia di Salerno dati inquietanti sugli incidenti stradali che sono stati 2327 con 50 morti nel 2021 secondo i dati ISTAT. Quali sono gli errori più comuni che si fanno o i rischi che si corrono più facilmente secondo la sua esperienza? Per prima cosa la distrazione, cioè non essere concentrati sulla strada tutto il tempo che si è dietro al volante. Ogni tanto ci si distrae guardando il paesaggio, oggi purtroppo guardando molto spesso il telefono o anche semplicemente lo stesso infotainment delle venture, sono sempre più ricchi di luci, lucine e ammennicoli che possono distrarci dalla guida. La velocità è un altro fattore di rischio perché se non siamo consapevoli dei limiti fisici a cui è sottoposta una vettura o dei nostri limiti come conducenti di una vettura rischiamo di metterci in pericolo costantemente. Questa conferenza arriva in un momento, in un contesto particolarmente allarmante proprio per il comune capoluogo tanti incidenti stradali oggi con l'ACI e l'esercito, questa tre giorni di guida sicura. Sì, purtroppo è vero, ma stiamo registrando un incremento preoccupante dell'incidentistica stradale con conseguenze drammatiche. Noi facciamo tutto il possibile, l'ACI fa tutto il possibile per un contributo di cultura e di professionalizzazione onde evitare atteggiamenti e comportamenti che non consentono la padronanza del mezzo durante la circolazione. In questa ottica si iscrive la collaborazione con l'esercito italiano per le tre giornate ready to go che è un'iniziativa credo altamente lodevole dell'Automobile Club perché integra le cognizioni che noi assumiamo quando vogliamo realizzare la patente di guida. Quando andiamo alla scuola guida noi insegnano a rispettare il codice della strada. Esistono però tutta una serie di situazioni. Naturalmente non parlo dei comportamenti dolosi perché quelli sono tutt'altro ragionamento. Dicevo che esistono tutta una serie di situazioni improvvise ed estemporanee che possono generare pericolo da cui conseguono incidenti anche mortali. Bene, ready to go serve per informare il guidatore di queste possibilità e per insegnare al guidatore come fare per fronteggiarlo. Voglio fare solamente un esempio. Una macchia di bagnato improvviso sulla strada per battistrada che non siano a perfetta tenuta che può essere un effetto, una causa di acquaplaning da cui può derivare un incidente stradale anche mortale. Bene, i nostri istruttori insegnano a coloro i quali vogliono seguire questo corso come comportarsi per gestire, padroneggiare e guidare la macchina anche inoltre. Grazie. 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 Grazie.